Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo primo video tutorial di una serie di video in cui vorrò spiegarvi come utilizzare Vegas per fare del montaggio video. Lo scopo di questi tutorial non è quello di insegnarvi a utilizzare Vegas a livello professionale, tutt'altro, ma di darvi gli strumenti basilari per utilizzare Vegas per il classico lavoro da youtuber soprattutto se fate gameplay quindi di poter registrare una volta registrati i vostri video di gameplay di poter fare un montaggio comunque basilare ma sufficiente per creare dei bei video senza buttare su brutalmente il registrato su youtube quindi nel nostro primo video di tutorial questo che state vedendo andiamo ad analizzare velocemente qual è l'interfaccia di Vegas e come è fatta le varie zone e a cosa servono. Allora io in questo video sto facendo con Vegas Pro 12 ma in realtà il layout si replica anche su altre versioni di Vegas e quindi è tranquillamente valido anche per le altre versioni. Allora Sony Vegas Pro ha in questa prima zona qua che vedete adesso indicata dal cursore una zona divisa da queste linguette. Allora nel project media e nell'explorer diciamo che sono le due finestre dove ritrovate tutto il materiale che poi dovrete poter utilizzare da inserire nel vostro filmato finale quindi vuol dire che qui vi troverete dei filmati, le clip audio, delle immagini, tutti tutti i contenuti che poi vorrete inserire nel vostro filmato finale. Come poter inserire del materiale quindi i vostri video, le vostre tracce audio in questa zona? Molto semplicemente potete utilizzare l'explorer che è questa, cliccando su questa linguetta ed è proprio una sorta di explorer risorsa in cui trovate tutte le vostre cartelle del disco. Io per esempio tengo tutti i miei materiali qui nel disco nell'unità F tengo tutti i miei video, tutte le mie immagini che poi utilizzerò per creare il filmato finale o più semplicemente potrete trascinarle da una classica finestra di gestione risorse. Questa è il classico gestione risorse di Windows. Voi potete per esempio andare dove tenete il vostro materiale, per esempio qua io ho i miei video, per esempio questo qua, voglio trascinarlo, voglio renderlo presente in questa zona dove ci sono tutti i media, quindi audio, video e compagnia bella, posso semplicemente prenderlo, trascinarlo e lasciarlo qua dentro. Non è proprio necessario utilizzare questa zona, io infatti spesso e volentieri utilizzo una classica finestra di gestione risorse come state vedendo adesso, specialmente perché avendo più di un monitor mi torna molto comodo avere questa finestra già grande di modo che vedo anche le varie anteprime delle varie clip o le immagini su un altro monitor, quindi le prendo e le trascino direttamente nella timeline che vedremo fra poco. Se però avete un solo monitor vi conviene utilizzare questa zona di modo che potete ritrovare tutti i vostri contenuti. questa zona funziona un po' come i tag, diciamo, infatti su all media per esempio trovate tutto. Ah, in questo caso questa è una traccia audio, questi sono due filmati. Per velocizzare e trovare le vostre clip necessarie per il filmato che state, che volete montare in questo momento, potete passare su queste varie cartelle che in automatico pone dei filtri in base ai formati, quindi vedete qua ho dentro il video, qua ho dentro l'audio e così via. Cliccando invece su transition abbiamo tutta una lista di effetti speciali, in questo caso di transizioni video, già preimpostate da applicare alla vostra timeline per per esempio mixare in maniera non brutale senza fare lo stacco due clip video. Io sinceramente non ne uso molto di queste e anche a voi suggerimento di non abusarne troppo perché anche se l'effetto a prima vista può essere molto figo, per esempio vedete qua i due filmati che si sostituiscono l'uno o l'altro in questa maniera, anche se può sembrare molto bello, è un po' lontano in verità dall'essere, da dare quell'impressione di professionale, quindi utilizzate con, da utilizzare con cautela e solo dove è necessario. Se andiamo invece su video effects, quindi sono gli effetti speciali da applicare al video. Anche qua ce ne sono, poi lo vedremo tra qualche puntata, un pochettino più avanti, ce ne sono tanti che sono realmente utili, possono proprio migliorare la tipologia, i vostri video. Ce ne sono altri che invece sono forse anche un po' troppo pacchiani e insomma, anche in questo caso il suggerimento è quello di utilizzare un po' con cautela. Infine in Media Generators la parte importante è sicuramente quella relativa alla possibilità di utilizzare dei progetti preimpostati per inserire del testo all'interno dei vostri video. Poi li vedremo con il momento più adatto, insomma. Andiamo avanti, quindi questa zona è divisa con tutti questi vari tab, ricapitolando dove recuperare i file per i vostri video, varie transizioni video, effetti speciali sui video e Media Generators principalmente per inserire il testo sui vostri video. Questa diciamo che invece è una zona di supporto dove potrete visualizzare i dettagli di filtri o transizioni che inserirete o anche il trimmer. Il trimmer vi farò vedere chiaramente dopo che cosa è. Questa invece è la zona molto importante perché c'è qui l'anteprima del vostro video. Faccio proprio una prova, adesso inserisco qua così il video. Ecco qua la brutta faccia sono io e in questa zona vedete che io spostandomi, qua nella timeline che vedremo fra poco, qua vedete subito l'anteprima del vostro video finale. Mentre proprio qua sotto, adesso fatemi aprire un altro progetto perché vi devo dare subito una indicazione. Quella che vedete invece qua sotto, tutta questa zona è la timeline, cioè la linea del tempo, se così vogliamo chiamarla, dove voi andrete a inserire tutti i vostri contenuti, quindi le clip video, le clip audio, le immagini e via discorrendo che andranno a comporre il filmato finale. Allora detto questo facciamo subito un passo avanti e andiamo a vedere un funzionamento base della timeline. Ogni volta che voi dovete iniziare un nuovo progetto, l'ideale è dire al programma che vedete su questa schermata quali sono le caratteristiche del vostro filmato, caratteristiche come la risoluzione verticale e orizzontale, il frame rate, il formato e tante tante altre informazioni che al lato pratico posso rendermi conto, in questo caso video, audio e via discorrendo, possono spiazzare un attimino. Ovviamente non siamo professionisti e non questo è il nostro obiettivo, quindi il suggerimento è molto semplice, lasciare decidere al sistema quali di questi parametri selezionare, in che modo analizzando il filmato base che noi vogliamo utilizzare per creare la nostra produzione, per fare il nostro video editing. Quindi una volta che avete aperto Vegas, lui si trova già in una situazione in cui ha aperto un nuovo progetto, nel caso contrario se avete già un progetto attivo, per fare un nuovo progetto, quindi iniziare a creare un nuovo formato, dovete fare file, nuovo o ctrl n. Ricordatevi ragazzi che le scorciatoie a tastiera sono estremamente importanti, quindi piano piano imparatele perché velocizzano veramente, veramente molto il montaggio, l'editing di un nuovo filmato. Quindi in questo caso iniziamo ctrl n o file new, clicchiamo e il programma appunto ci dice come deve essere il tuo progetto. A me non interessa com'è il mio progetto, quindi in questo caso gli do un ok, gli dico fai quello che vuoi, prendilo così, va bene. Dopodiché io faccio per esempio finta che ho registrato un mio nuovo episodio di un videogioco come questo, ok? E questa qua è la mia clip che ho creato tramite alcuni programmi di cattura video, come può essere Cantasia, come può essere Dxtory, o addirittura il mio filmato come questo, il filmato preso con una videocamera, con uno smartphone. Prendo, iniziamo col gioco per esempio, io prendo questo mio, questa mia clip e la posso portare o direttamente, vedete trascinandola, o direttamente nella timeline o la porto sul mio project media. Vedete che se rimango col tasto sinistro schiacciato e passo sulle varie linguette, posso selezionarla. Io posso buttarla nel project media o posso buttarla direttamente qua. L'ideale è che se ho più di un filmato che voglio poi montare in uno, li seleziono tutti assieme, vi faccio vedere proprio. Esempio, seleziono questo, tengo schiacciato il mio control e seleziono quest'altro e seleziono quest'altro, dopodiché ne prendo uno, tengo schiacciato il tasto sinistro e lo trascino dentro in project media. Vedete che è meglio aggiunti tutti qua. Adesso io voglio iniziare con questo, perché diciamo che è la mia prima parte del filmato, la prendo, la trascino, poi vi farò vedere più avanti anche i vari menu veloci del tasto destro, però come detto andiamo passo per passo, quindi tengo schiacciato col tasto sinistro, seleziono e trascino, proprio vedete trascino in questa maniera, sul timeline e rilascio. Nel momento in cui rilascio, cosa mi chiede Vegas? Mi dice, vuoi impostare il tuo progetto video con i parametri identici a quelli di questo filmato? Quindi creo un progetto basato sul mio filmato, quindi in automatico crea tu tutte, prendi tu tutte le informazioni necessarie, io gli posso dire sì. Volendo potete anche fare il check su questa casellina in cui gli dite ogni volta che io inizio un nuovo progetto, ti trascino un video, devi prendere in automatico le informazioni, perché io non ne so niente, non ne voglio sapere niente, fai tu, scegli tu quelle che sono le migliori, ok? Quindi di certo gli dico che si, voglio che fai tutto in automatico. È trasparente, vedete che non succede niente, non ci sono altri messaggi, ma Vegas in questo modo sa già come deve lavorare. Questo per me è un filmato in full HD, un filmato AVI in full HD e quindi lui ha già impostato tutto come deve. Allora, a questo punto io ho il mio filmato posto qua nella timeline. Nel caso specifico io ho diverse tracce, vedete, una, due, tre, qui ci sono comparsi, uno, due e tre. Queste sono tracce, in automatico Vegas capisce se sono tracce audio o tracce video. Nel mio caso specifico ho una traccia video, una traccia audio e una seconda traccia audio. Perché ho due tracce audio se ve lo chiedete? Perché con il mio programma, in questo caso ho utilizzato Dictory per registrare questo mio Let's Play, ho impostato programma per registrare sia l'audio del gioco, eccolo qua, sia l'audio preso dal mio microfono. Il suggerimento è quello di dividere sempre le tracce, non è questo il momento per dirvi come dividere le tracce con i vari programmi, però il suggerimento comunque rimane. A questo punto io ho fatto, ho messo qua sulla mia timeline il mio filmato. Cosa facciamo adesso? Vogliamo aggiungere una sigla e vogliamo tagliare dei pezzi che non mi servono. Magari voglio tagliare l'inizio perché ho iniziato a registrare ma non ero ancora pronto, magari qualche secondo prima di salutare e magari anche la fine che solitamente sono le operazioni più classiche, più normali che si fanno. Allora, prima di tutto iniziamo a tagliare il pezzo che non mi interessa. Quindi con la rotellina del mouse, se ce l'avete, o agendo su questi tasti più e meno potete zoomare in e out sulla timeline. Cosa significa? Guardate qua, questa è una scala numerata e sono secondi, 0, 15, 30 secondi, 45, 1 minuto, 1 minuto e 15. Se vado con la rotellina o appunto qua così sul più e il meno, vedete che la scala diventa più fitta, no? Quindi 1 minuto e 11, 1 minuto e 12, 1 minuto e 13, mentre se torno indietro vedete 40, 50 secondi, 1 minuto e via discorrendo. Qua sotto con questa barra potete scorrere avanti e indietro nella vostra timeline. A questo punto io voglio tagliare un pezzo, come detto, dell'inizio delle mie clip. Posso fare uno zoom perché se lo zoom è chiaramente al minimo è molto difficile andare a selezionare, vedete che proprio fa anche lo snap, è molto difficile selezionare pochi secondi per volta. Io faccio il mio zoom, ripeto, con la rotellina o con il più e il meno e in questa maniera posso andare più precisamente, vedete, a selezionare il secondo corretto nella mia timeline. Come faccio a sapere dove devo tagliare? Mica posso immaginare cosa sto dicendo guardando questa forma d'onda, no? Allora io qua così nella zona di preview posso schiacciare su play e ascoltare quello che si sta dicendo. In questo caso qua c'erano altre due persone che stavano parlando, mentre qui, questa qua è il mio microfono, qui io iniziavo a parlare. Quindi voglio che la mia clip inizi proprio da qui. Quindi tutta questa parte qua non mi interessa, non la voglio pubblicare, non voglio che sia parte del mio video finale. Quindi mi posiziono con questo segnalino, vedete questa linea verticale che posso spostarmi semplicemente andando col mouse sopra, aspettare che compaiono le due frecce. Tengo schiacciato il tasto sinistro e mi sposto, lo trascino avanti e indietro. Quindi vado proprio qui con la linea prima che io inizio a parlare, vedete, quella, sentite quel quella sono io che sta parlando. A questo punto voglio tagliare in due la clip. Per tagliare in due la clip posso fare edit, split o semplicemente vedete la S. Ecco perché è molto molto importante imparare le shortcut e quindi i tasti veloci, perché in questo caso se io voglio eliminarla basta che mi posiziono qua e schiaccio sulla tastiera la S. Cliccate in questo momento, no? Quindi l'ho fatto lo split con la S. In questo caso vedete che ora io posso selezionare le due clip in maniera separata. Quindi a questo punto l'ho diviso in due, lo seleziono e lo cancello. Per tagliarlo posso cliccare col tasto destro e fare delete o posso semplicemente fare, selezionandole, fare cance sulla tastiera. C'è anche un secondo modo per andare a eliminare, soprattutto se si tratta della parte iniziale o finale della clip una parte di filmato. Ora sto facendo CTRL Z per eliminare le mie due ultime azioni. Questo modo consiste in come? Consiste nel portare il mouse nella parte sinistra, in questo caso nel bordo della mia clip sulla parte video, tenere schiacciato il tasto sinistro e spostare la freccia a destra. Vedete? In questa maniera io vado proprio ad accorciare quella che è la mia clip. L'accorcio e tac, la mia clip ora partirà da qua, proprio da questo, da questo punto. Se vedete io schiaccio il play o se no ecco un'altra scorciatoia, ricordatevela, la barra spaziatrice equivale al play. Quindi sto dicendo, cliccando la barra spaziatrice così, parti con il play e fammi vedere. Vedete che ogni volta poi, quando rischiaccio la barra spaziatrice, il cursore torna proprio all'inizio. Avete visto? Ed è preciso, è proprio il taglio che volevo. Se non è, volevo tagliare ancora un po', mi rimetto qua, tengo schiacciato col tasto sinistro e mi sposto un po' avanti o un po' indietro. Vedete? In questa maniera io riesco ad allungare la mia clip. Alla stessa maniera, qua sto usando la rotellina, alla stessa maniera vado avanti indietro, vado fino in fondo e voglio per esempio tagliare il finale. Io qua saluto, sentiamo. Ciao ragazzi, grazie per l'attenzione. Ciao, ciao, non mi interessa queste altre cose che stiamo dicendo. Mi metto a fondo clip, seleziono col tasto sinistra, schiaccio e tengo premuto e sposto a sinistra. Ecco che sto accorciando la mia clip. Perfetto no? A questo punto ho la mia clip con l'inizio dove volevo e la fine dove volevo. Voglio inserire la mia sigla. Facciamo che la mia sigla ce l'ho già pronta, ovviamente. Io ce l'ho sempre qua, nella mia cartellina che si chiama sigla. Vedete quante ne ho? Ne ho più di una. Quindi o la ritrovate qua o andate a ritrovarla qui o addirittura in Explorer. Perché ricordatevi che questo Explorer è la stessa cosa che abbiamo qua, solo che ha integrato. no? Quindi io posso anche andare qua, posso andare nella mia sigla e posso prendere la mia sigla che si chiama, in questo caso, non mi ricordo mai, si chiama sigla e basta. Ecco appunto. La posso prendere e la posso addirittura, guardate, trascinare direttamente nella timeline. Vedete? L'ho presa, rifaccio. Questa qua, tengo schiacciato il tasto sinistro e la trascino giù nella mia timeline e la lascio andare. Ok? Se adesso poi mi posiziono con il mio cursore, clicco qua, nella zona dove c'è la sigla, vedete che qua nel riquadro di anteprima è comparsa la mia sigla. Ora fate molta attenzione perché questa timeline, quindi la linea del tempo va da zero a 15 minuti e poi va anche avanti, no? Il mio filmato deve essere un corpo compatto, cioè non possono esserci questi secondi che vedete qui e questi qua senza niente, perché se no il video partirà, quando poi faremo il rendering e vedremo, partirà con uno schermo nero, poi inizierà la sigla, poi ancora schermo nero, no? Vedete? Facciola più ad esempio, mi metto qua, schiaccio la barra, vedete? Questa è l'anteprima, non è che non c'è niente. Guardate il tempo che va avanti qua. Sta dando avanti oltre 20 secondi e non c'è niente. A un certo punto parte, no? Parte la mia sigla e dopo ancora un po' la sigla finisce, aspettiamo due secondi, eccola qua, finisce, torna nero e va avanti per secondi e secondi. Quindi ricordatevi che deve essere una clip unica finale. Quindi cosa faccio? Deve partire da zero ovviamente, io inizio a selezionare la mia clip della sigla. Un click, ok? Click, tengo schiacciato e sposto, vedete che qua si sposta tutto. Poi vi faccio vedere anche perché si sposta tutto, perché ci sono questi elementi molto importanti, ma lo vedremo più avanti. Quindi ci clicco qua, lo porto tutto a sinistra, vedete? Più indietro di qua non posso andare. Se anche afferro questo mio segnalino e vado fino indietro, vedete che sono a zero. Faccio play o barra spezzatrice e subito la sigla, vedete? Quindi questo è inizio corretto. Dopodiché afferro il mio filmato, la clip iniziale, la prendo e trascino anche lei a sinistra fino a andare contro. In automatico si vede che piano piano va a sinistra e poi fa un saltino, tac, ok? Perché ci sono dei sistemi automatici che permettono un montaggio più facile, no? Cercono di capire dove volete posizionarvi e quindi questa è una sorta di posizionamento magnetico, no? E quindi in automatico si mette vicino. E in questo caso, se io vi faccio vedere, vi metto qua, vado un pochettino più avanti così risparmiamo secondi, faccio partire, vedete qua la sigla. Dopo la sigla parla il mio filmato. Perfetto. Ma a me non piace così, non piace proprio. Per quale motivo? Perché voglio che ci sia una sfumatura tra i due filmati, che non ci sia, saltano diretto. Come posso fare? Allora, zoom, zoom, zoom. Il zoom come lo faccio ve lo ricordate? O col più, qui così, o con la rotellina. Io voglio zoomare però proprio qui, in questa zona qua dove ci sono i due filmati. Quindi mi posiziono qui con un clic e faccio quella rotellina al mio zoom. Vedete che in questo caso vedo tutti i miei filmati, vedo la scala molto più ingrandita. Cosa faccio per fare una transizione tra questi due filmati? Una transizione video proprio come queste? O utilizzo una di queste, ma non è questo il caso, lo vedremo dopo. O faccio la classica tra transizione video incrociata. Cosa vuol dire che i due filmati si sfumano l'uno con l'altro per un passaggio più tenue. Ma è molto semplice. Allora, cosa faccio? Io prendo questa clip, ok, ci clicco sopra, una volta tengo schiacciato e piano piano la trascino a sinistra. Vedete che sta comparendo due linee che si incrociano con vicino un numerino. Il numerino è proprio il secondino. Questo sono un decimo di secondo e qui un secondo intero. Ok. In questo caso in automatico il sistema ha fatto una dissolvenza incrociata. Vediamo qual è il risultato. Quella! Ci sono anch'io. Vedete? Ve lo rifaccio rivedere piano piano. Qua così parte la dissolvenza incrociata e i due filmati, vedete, si sovrappongono e l'effetto è sicuramente molto molto più bello. Vado attorno allo zoom, indietro, e voglio una stessa, la stessa cosa alla fine. Non più due filmati che si incrociano, ma il filmato che sfuma in nero. Ok. Quindi praticamente come faccio con tutti i miei filmati? Cosa faccio? Molto semplice. Quindi vado alla fine, zoom, quindi col più o meglio con la rotterina del mouse. Ok. E quello che mi interessa è il filmato video. Ok. Questo qua. Quindi come posso dire io? Video alla fine piano piano sfuma, diventa sempre più scuro e va in nero. Mi posiziono in alto a destra del filmato fino a quando compare questa mezza lunetta, questo quarto di cerchio con le freccioline. Vedete che mi mette fuori Fade Out Offset. A questo punto mi metto qua. Tengo schiacciato il tasto sinistro del mouse e trascino a sinistra. Vedete che compare quella stessa linea che piano piano dall'alto va fino in basso. C'è sempre un timer e anche lì così sono i secondi. Ho deciso che voglio fare un Fade Out di due secondi addirittura. Ecco, lo trascino continuamente fino a quando vedo il 2 e lascio andare. L'effetto qual è? Eccolo qua. Che io? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Vedete? Sì, vai in nero piano piano, diventa più scuro e vai in nero. Guardate. Se voglio farlo più corto mi riposiziono sempre nell'angolo dove inizia la mia linea dell'avvallamento che mi va a definire il Fade Out. Quando il cursore diventa sempre questo quarto di cerchio, tengo schiacciato il tasto sinistro e allungo accorcio. Ok? In questo caso per esempio è più veloce. Bene ragazzi. Io direi che con già questo primo tutorial vi ho dato tutte le informazioni basilari per riuscire a mettere insieme una clip, tagliarla dove vogliamo l'inizio alla fine, poi vedremo gli altri tagli centrali, clicare una sigla, fare un piccolo effetto di sfumatura tra i due video e la sfumatura finale in chiusura per andare in nero. Eccola qua. Per questo tutorial ragazzi direi che è tutto, poi piano piano, ce ne vorranno un po' però piano piano riusciremo a vedere tutte le varie caratteristiche base per fare un montaggio comunque bellino di tutti i vostri video. se avete domande chiaramente scrivetemele sotto, cercherò di rispondervi e magari per le domande più particolari andrò proprio a fare un tutorial video per dare tutte le varie risposte a queste domande. Ragazzi grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo tutorial.